Se sa la possibilità bisogna farlo, no perché c'è tanta gente che sopra il mondo, noi abbiamo il dovere... Un cane, un cane, Filippo è un cane, va bene? Mamma mia quanto ghiacchieri, eh, te l'hanno mai detto che sei l'eurocorroico? No, avevi detto un figlio? Ah no, ho detto quasi, quasi come un figlio, perché io Filippo lo considero quasi come un figlio, va bene? Che hai da dire? Sotto ti piacciono i cani, addirittura subito se non ti piacciono i cani, ma... C'è una cosa che non sopporto, sono gli uomini bugiato. Ma non sono un bugiato? E quelli che per fare colpo su una donna la secondano, raccontando una marea di balle solo per portarsela a letto. E io odio le strategie, quindi adesso mi farò una domanda precisa, a cui voglio una risposta chiara, schietta e sincera. Ti piacciono i cani, sì o no? Eh, eh, sono allergico! Le allergie sono psicologiche, a te non piacciono i cani e basta. Ma no, mi piacciono, sì, mi piacciono i cani, certo. Beh, certo, basta che non siano di quelli troppo piccoli, sai quelli un po' stupidi che non sembrano neanche cani? Filippo è un bassotto, è un cane molto infelicente. Sì, no, io te devo dire, sai quelli pelosi, quelli proprio pieni di beni, per... E' un bassotto a pelo lungo! Ecco, no, io te devo dire proprio quelli...